Una manovra da 2,6 miliardi di euro da coprire grazie all'aumento del rapporto deficit-PIL che passerà nel 2016 dal 2,2% al 2,4%, fra le novità spiccano quelle per la prima casa. Si potrà infatti comprarla con un leasing, proprio come fosse una macchina. Durante il periodo del contratto si paga un corrispettivo mensile alla banca, quindi al termine, o si riscatta l'immobile oppure lo si lascia alla banca. Sempre in tema di casa arriva l'eco bonus per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di dispositivi multimediali che permettano il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento e climatizzazione. Per quanto riguarda poi le pensioni, dal prossimo anno la no-tax area viene fissata a 8.000 euro ed è escluso il recupero del minor costo della vita sulle pensioni. Nella legge di stabilità c'è anche posto per i 30 milioni da destinare agli interventi di conservazione, manutenzione e restauro dei beni culturali. Altra novità è il blocco di tutte le attività di trivellazione marina entro le 12 miglia di fatto così scongiurando il referendum promosso da 10 regioni. Arrivano poi 3 milioni in più per asili e scuole elementari parificate e 9 milioni in tre anni per collegi universitari di merito. Sul fronte sanità invece ieri sera sul tardi è piombato sul tavolo della commissione bilancio un emendamento per fare fronte alle norme dell'Unione Europea sull'orario di lavoro e permettere così l'assunzione di nuovo personale. Malgrado questo non sembra tuttavia scongiurato lo sciopero di domani contro i tagli delle prestazioni erogate ai cittadini e in difesa del Servizio Sanitario Nazionale. 200 mila camici bianchi incroceranno le braccia bloccando di fatto 2 milioni di esami e 40 mila interventi programmati.